La smentita di Sara Affifella, che parte per Ibiza e l'abbandono di Luigi Mastroianni dai social. Il trono classico di uomini e donne torna a far discutere il suo fedele pubblico sul web. La vicenda, oggetto di numerose chiacchiere in rete, riguarda una delle coppie nate nell'ultima edizione del programma, parliamo di Sara Affifella e Luigi Mastroianni. L'ex tronista, come ben sappiamo, ha preferito il ragazzo siciliano ai rivali di quest'ultimo, il corteggiatore Lorenzo Riccardi. In molti non hanno approvato la decisione finale della ragazza la quale è sempre apparsa palesemente più interessata al giovane milanese piuttosto che a colui che, infine, si è rivelato essere la sua scelta. A distanza di qualche settimana dall'ultima registrazione del talk show di Maria De Filippi si parla già di crisi tra Mastroianni e Sara, una crisi che, però, pare essere stata smentita dalla stessa extronista la quale è attualmente in vacanza a Ibiza con le proprie amiche. E la stessa ragazza ad aver dichiarato che la sua relazione sentimentale è chiara a tutti ma malgrado le dichiarazioni della Fella, in rete il dubbio permane e diviene sempre più vivo. Uomini e donne, Luigi Mastroianni abbandona i social. L'inizio delle voci sulla presunta crisi hanno trovato spunto da un recente annuncio pubblicato da Luigi Mastroianni sul proprio profilo social, su Instagram. Il ragazzo ha dichiarato di aver deciso di prendersi una pausa dai social i quali saranno usati dallo stesso ragazzo solo per ragioni lavorative. Infine Luigi ha rasserenato tutti i suoi fan annunciando che la decisione presa in merito al mondo virtuale non ha nulla a che vedere con la sua fidanzata, Sara. Quest'ultima invece si trova attualmente ad Ibiza all'insegna di una nuova avventura che ha deciso di condividere assieme alle proprie amiche. E Gia finita tra Sara e Luigi? La Fella risponde sul social. Sono giorni di fuoco per i grandi sostenitori della coppia composta da Sara e Luigi. Ultimamente, infatti, sono molti colori i quali alludono ad una possibile rottura della neocoppia. A rispondere sui social e a rompere il silenzio è la stessa Sara che in una recente Instagram story ha annunciato le testuali parole, sono stata zitta per alcuni giorni ma ora ho deciso di parlare. Ho 21 anni e ho deciso semplicemente di divertirmi con le mie amiche. Per quanto riguarda tutte le voci basate su dei semplici like da parte di amici vi dico che vi commentate da soli e che la mia situazione sentimentale è già chiara a tutti. Attraverso questa replica la Fella ha indirettamente smentito la presunta crisi con Luigi, dando una risposta alle voci che volevano la storia tra i due vicini al capolinea.